La denuncia dei 5 Stelle, servizi senza appalto, pulizia e mensa negli ospedali affidati senza una gara, procedura seguita per anni. Dopo Campobasso, Termoli e Larino, Greco promette novità per Isernia e Venafro. Non riceve gli armatori, la protesta va avanti a Roma, il sottosegretario Battistoni ha rifiutato l'incontro con i pescatori e i commercianti, lo stato di agitazione continua, tra oggi e domenica si decide se proseguire. Code sulla Bifernina, timori per domenica, fino a 10 chilometri di fila i semafori sulla Fondovalle, serve migliorare la circolazione come accade nei mesi estivi, pienone sulle spiagge, nel giorno di festa. Riunione in prefettura per furti nelle borgate, fenomeno in crescita Isernia dove i cittadini sono allarmati in città a tavolo tecnico con il prefetto Faramondi per aumentare i controlli. E per lo sport, Lega Pro il 28 agosto si torna in campo, lo ha annunciato il presidente Ghirelli specificando che si giocherà anche durante i mondiali in Qatar, in eccellenza l'Isernia, domenica arriva l'Akragas. Buon pomeriggio cari amici di Telemolise, ben trovati per l'edizione delle 14 del nostro telegiornale Pulizia e Mensa negli ospedali, parliamo di questo in apertura perché per 27 anni i servizi sono stati affidati senza una gara d'appalto. E' questo l'ultimo dei dati emersi da un'inchiesta realizzata dal capogruppo 5 Stelle in regione Andrea Greco. Dopo Campobasso, Termoli e Larino Greco va a scoprire le carte negli ospedali di Isernia, Venafro e Agnone, ci dice tutto in apertura Pasquale Di Bello. Dopo quelli di Campobasso, Termoli e Larino, l'inchiesta del capogruppo 5 Stelle in regione Andrea Greco si sposta sugli ospedali di Isernia, Venafro e Agnone. Sotto la lente di ingrandimento i servizi di pulizia e mensa delle strutture ospedaliere. Come negli altri casi, i dati che emergono sono paradossali con contratti vecchi anche di 27 anni. Dobbiamo tornare parecchio indietro nel tempo e precisamente al 3 ottobre 1994 per il contratto tra la vecchia ASL di Isernia e Venafro e la ditta Team Service. Il costo annuale del servizio di pulizia si aggirava, secondo le evidenze contabili, a circa 565.000 euro per Venafro, quindi 47.000 euro ogni mese, e 673.000 euro per Isernia, quindi 53.000 euro mensile. Se per il servizio pulizia di Isernia e Venafro la questione si è risolta con l'appalto a mezzo Consip, varato dall'ASREM a gennaio 2022, resta invece in piedi la questione mensa per entrambi i nosocomi. Al Veneziale di Isernia e al Santissimo Rosario di Venafro il servizio mensa è stato affidato all'ormai noto Consorzio Nazionale Servizi, lo stesso che ha effettuato finora le pulizie a Campobasso, Termoli e Larino. Quindi ancora una volta si è proceduto con l'estensione di un vecchio contratto. Secondo i nostri calcoli la spesa complessiva si aggira tra i 70.000 e i 100.000 euro ogni anno. Situazione a sé stante invece quella dell'ospedale Caracciolo di Agnone e amara la conclusione di Greco alla fine della lunga inchiesta. A pagare è sempre Pantalone, ovvero i cittadini. Qui il servizio di pulizie è stato affidato alla cooperativa Tre Stelle nel 2009. La durata del contratto era di un solo anno, poi rinnovabile per altri 12 mesi. Da allora, quindi dal 2009, la ditta opera senza un formale rinnovo e sono passati già dieci anni. Il costo del servizio dopo otto anni però dalla stipula del contratto originario risulta addirittura raddoppiato. Siamo passati dai 217.000 euro del 2009 ai circa 412.000 euro del 2017. Solo il Caracciolo conserva l'affidamento a una cooperativa privata. Cambiamo argomento. La discesa dell'epidemia si consolida anche in Molise dove l'incidenza passa da una settimana all'altra da 282 casi ogni 100.000 abitanti a 206, così come certifica il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. L'incidenza più elevata è invece in Umbria, la più bassa, e nella provincia autonoma di Trento. L'occupazione dei posti letto in area non critica in Molise è inferiore anche questa settimana alla media nazionale 4,5% in regione contro il 7,1% nella media della penisola. Rimane più alto, precisamente più che doppio, invece, il tasso di occupazione nelle terapie intensive che si attesta sul 5%, con soli due ricoverati, erano tre nel precedente monitoraggio contro una media nazionale del 2,3%. E ora ci spostiamo sulla costa perché continua lo stato di agitazione delle marinerie d'Italia, anche da Termoli. Una delegazione di armatori, pescatori e commercianti ha raggiunto Roma per incontrare il sottosegretario Battistoni, sono rientrati delusi e amareggiati dopo ore di attesa. Non sono stati infatti ricevuti, continuano a chiedere un tetto massimo del prezzo del gasolio. Tra domani e domenica la decisione, se rientrare in mare, ce ne parla Andrea Nasillo. Non sono stati ricevuti dal governo partiti in pullman da gran parte dell'Italia per avere risposte alla crisi della pesca. Una delegazione di armatori, insieme a diversi pescatori e commercianti, anche da Termoli. La base del comparto non ci sta e delusa. I rappresentanti delle organizzazioni di categoria hanno incontrato il sottosegretario Francesco Battistoni che parla del raggiungimento di tre misure concrete di sostegno diretto al reddito. Il credo d'imposta per l'acquisto dei carburanti, la compensazione dei costi aggiuntivi attraverso il Fondo Europeo e la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto che eroga la pesca, 20 milioni di euro. Ma Battistoni non ha incontrato la delegazione dei tanti manifestanti delle marinerie che oggi chiedono solo una cosa, il tetto massimo del prezzo del gasolio. Eravamo 50 persone da Termoli ma circa un migliaio da tutta l'Italia. Non siamo stati ricevuti né dal ministro né dal sottosegretario né dal direttore Rigillo. Se non si diminuisce il prezzo del gasolio noi per mare non ci possiamo andare oppure siamo costretti a andarci a perdere. Non ci arrendiamo, riteniamo opportuno da parte del nostro ministro e per quanto riguarda il nostro segretario di essere convocati noi diretti interessati alla pesca, non perché vogliamo... Allora, la nostra linea da nord a sud è che non vogliamo i cosiddetti ristori che si sono inventati questo nome in questo periodo di pandemia, noi vogliamo lavorare. Non chiediamo ristori, non vogliamo crediti d'imposta, noi non vogliamo soldi così. Noi i nostri soldi li sappiamo come dobbiamo fare. Noi vogliamo soltanto avere la possibilità di poter andare a lavorare. Manco gli animali vengono trattati così. Ci hanno messo nei recinti, ci hanno fatto morire di caldo, non poteva andare al bagno, ci hanno trattato proprio malissimo. Noi chiediamo cose semplici, noi non vogliamo niente da nessuno. Noi vogliamo solo che ci abbassino il prezzo del gasolio. Da bambino che faccio questo mestiere qua, cioè nel sangue questo mestiere. Però questi, mi sa come la storia, lo fanno finire. Non ci hanno la possibilità di guadagnarci più. Tra domani e domenica la marineria termolesi deciderà se rientrare in mare. Molto dipende dalla scelta di armatori e pescatori delle altre regioni. Tutto l'indotto è in ginocchio. Noi siamo piccoli imprenditori, come le devo dire. Siamo delle piccole rivendite come pescherie, come box, come in piazza locale. Quindi automaticamente non avendo prodotto locale ci troviamo molto, molto in difficoltà. Tutto il comparto di questa economia va a scatafasci, assolutamente a scatafasci. È stato ritrovato dai vigili del fuoco di Agnone un quarantenne di Poggio Sannetta di cui dopo essere uscito con il trattore per alcuni lavori nei campi si erano perse le tracce. La famiglia ha dato l'allarme al 112 e i carabinieri di Agnone hanno allertato i caschi rossi. L'uomo è stato ritrovato lungo una strada colto da un malore ed è stato affidato al 118 per le cure del caso. Intanto i vigili del fuoco di Isernia sono ancora impegnati nelle ricerche dell'uomo di 68 anni di Monteroduni scomparso il 29 maggio scorso. Con le temperature che stanno anticipando l'estate e i giorni festivi sono l'ideale per trascorrere una giornata al mare. Ma come è accaduto ieri il rischio di code chilometriche lungo la Bifernina mette in forza anche l'afflusso di turisti sulla costa. Sentiamo Giovanni Di Tota. Quasi 3 miliardi di euro per ammodernare le linee ferroviarie più vecchie nel paese. Tra queste c'è di sicuro quella che mette in collegamento le due sponde del Molise Venafro e Termoli. Soldi che servono per l'elettrificazione, per acquisire treni nuovi, ad abbreviare i tempi di percorrenza. Parte dei lavori già realizzati, il grosso ancora da completare. Ma i soldi investiti da ferrovie fa da contraltare uno scenario grottesco e irrazionale che interessa l'unica strada che collega Campobasso e i comuni al mare, attraverso la Bifernina. Si era detto che la bretella inaugurata l'anno scorso, spesa poco più di 5 milioni di euro, avrebbe eliminato il grosso dei problemi. È invece bastato che le temperature si avvicinassero a quelle estive per far emergere le incongruenze di un tracciato disseminato di semafori che hanno provocato code, fonte polizia stradale, che in alcuni momenti della giornata hanno superato i 10 chilometri. Al di là dei tanto sbandierati tempi di percorrenza, va sottolineato che l'organizzazione del turismo passa anche attraverso semplici meccanismi che possano facilitare il transito anche su corsie alternate dai semafori. Un giorno festivo come quello di ieri, oppure la domenica, richiama sulla costa migliaia di persone che arrivano anche dalla provincia di Benevento. Regolamentare i tempi dei semafori sulla base del flusso dei veicoli, oppure come accade nelle domeniche estive avvalersi del personale ANAS che regola il traffico, eliminando i semafori sarebbe stato opportuno. Sono ancora tre le soste obbligate lungo il percorso e l'avvio di alcuni cantieri è stato perfino fatto slittare e domenica è previsto bel tempo. E come si diceva e come del resto negli ultimi due weekend di maggio, anche nella giornata della festa della Repubblica, tanta gente ha raggiunto le località della costa molisana, molti in giro a Termoli per qualche ora di relax e in spiaggia per i primi bagni complici. Le temperature, particolarmente gradevoli a 15 giorni dall'apertura anticipata della stagione estiva, le strutture ricettive, sia alberghiere che B&B e case vacanza, registrano già un buon numero di persone, anche di turisti stranieri. Ora andiamo a Isernia perché le bollette dell'acqua emesse dal Comune per gli ultimi due anni sono sbagliate. Si tratta di importi non dovuti. Lo dichiara Tiziano Di Clemente, coordinatore regionale del Partito Comunista dei Lavoratori e ce ne parla Enzo Di Gaetano. Tiziano Di Clemente torna all'attacco sulle bollette dell'acqua emesse dall'Essattoria Comunale di Isernia per il coordinatore regionale del PCL. Le fatture idriche emesse a fine aprile, cumulando il bienio 2020-2021, sono tutte da annullare perché in violazione della Carta dei Servizi adottata dal Comune di Isernia. L'articolo 36 della Carta impone, afferma Di Clemente, che le fatture vengano emesse minimo per semestre, fino a 100 metri cubi, per quadrimestre fino a 1000 metri cubi, per trimestre se superiore a 1000. La furbata di emettere la fattura senza tale periodicità fa scattare fasce superiori di prezzo a parità di consumo, con un ulteriore aggravio perché le più elevate tariffe del 2021 vengono applicate anche per il 2020 nella stessa fattura. Ad esempio, un utente ha ricevuto la fattura 2020-2021 di 229 euro, rifacendo i conti con la periodicità quadrimestrale e con le tariffe 2020 per il 2020. Sono risultati ben 91 euro in meno da pagare, ovviamente, a parte la giusta rivendicazione del rispetto della Carta dei Servizi. Noi ci preoccupiamo dei ceti sociali più deboli, sottolinea Di Clemente, già vessati dalle politiche centrali e locali. Le passate giunte di destra hanno fatto accumulare le bollette, sicché furono emesse tra il 2019 e il 2020 a raffica, fatture biennali per i consumi di ben sei anni, dal 2014 al 2019, sicché nell'aprile 2022 sono state messe di nuovo accumulate le fatture 2020-2021, ritardi di fatturazione che, oltre a riecare danno finanziario al Comune, creano disagio all'utenza e che devono perciò essere risarciti con indennizzi automatici proporzionali al ritardo. L'emissione va fatta entro 45 giorni dall'ultimo giorno del consumo periodico suddetto. Oltre tale termine, spetta un indennizzo automatico all'utente pari a 30 euro se l'emissione è entro i 90 giorni, a 60 se è entro i 135 giorni, a 90 oltre i 135 giorni. Nelle fatture non sono neanche indicate le deliberazioni comunali delle tariffe, nei siti ovvio consultarle, nell'analisi dell'acqua e altro imposto dalla Carta dei Servizi. Chiediamo pertanto, questo l'invito finale di Di Clemente al Comune, di rimuovere le violazioni dei diritti degli utenti e la nuova emissione delle fatture conformi alla Carta dei Servizi. E restiamo a Isernia perché non si attenua all'allarme furti nelle borgate. Il grido di aiuto lanciato dai residenti è arrivato in prefettura, al centro di un tavolo tecnico. Secondo il prefetto Gabriella Faramondi, i dati non sono allarmanti e i cittadini devono fidarsi delle istituzioni che sono già al lavoro per garantire la massima sicurezza. C'era per noi Valeria Migliore. Cresce sempre più la preoccupazione dei cittadini delle borgate di Isernia per l'allarme furti. Il grido di aiuto dei residenti è arrivato in prefettura dove nel corso di un tavolo tecnico si è discusso di come implementare la sicurezza pubblica. Per il prefetto di Isernia, Gabriella Faramondi, i dati non sono allarmanti ma ha dimostrato comunque ampia disponibilità nell'aiutare gli amministratori anche attraverso il potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Resta però fondamentale la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine che stanno lavorando per garantire maggiore sicurezza. Non c'è una situazione allarmante anche se ovviamente episodi come quelli che si sono verificati nelle borgate un numero ha cresciuto di furti probabilmente rispetto allo scorso anno comprensibilmente ha cresciuto perché siamo usciti da un periodo di restrizioni dovute alla pandemia non è tale da destare una particolare preoccupazione nel senso che noi come istituzioni come forze di polizia siamo sul pezzo stiamo mettendo in campo tutte le migliori energie tutte le risorse chiedendo anche dei rinforzi ove necessario quello che chiediamo ai cittadini ovviamente non attrezzarsi per le ronde la sicurezza è un compito delle istituzioni noi dobbiamo assolvere a questo compito con impegno trovando le soluzioni adeguate incisive tempestive ai cittadini chiediamo soltanto di farsi interpreti dei loro fabbisogni e noi a quei fabbisogni dovremo corrispondere e ora vogliamo parlarvi di una giovane vita strappata troppo presto durante una gara sportiva è quella di Stefano Russo un giovane atleta di origini molisane scomparso a soli 34 anni dopo un malore improvviso Cordoglio anche in Molise e sui social i funerali si svolgeranno questo pomeriggio a Figino Serenza nel Comasco dove viveva sentiamo Giuseppe Carriera era un ragazzo d'oro di quelli che ognuno dei parenti e degli amici che aveva a Pietra Catella ma anche a Gambatesa voleva come ospite quando tornava in vacanza Stefano Russo viveva nel Comasco a Figino Serenza ma il suo cuore era qui in Molise terra natia dei suoi genitori Nicolette e Salvatore di cui era figlio unico una morte improvvisa a soli 34 anni lo ha strappato ai suoi affetti qualche giorno fa mentre era impegnato a Cesenatico nella prima fase della Spartan Race una corsa a ostacoli particolare e impegnativa per la quale Stefano era molto preparato e che affrontava con passione un malore quasi ai primi due chilometri il suo corso tempestivo e ricovero in terapia intensiva ma non c'è stato nulla da fare sgomento e cordoglio tanto in Molise quanto nei luoghi dove viveva e lavorava la comunità è costretta a piangere un'altra giovane vita spezzata troppo in fretta ha detto il sindaco di Figino esprimendo cordoglio alla famiglia aggiungendo come riporta il quotidiano la provincia in tanti mi hanno raccontato di lui descrivendolo come un bravo ragazzo che a lungo aveva frequentato l'oratorio un giovane innamorato della vita dello sport del ballo calcio, box corsa lunghe passeggiate in montagna avevano scandito le giornate di un ragazzo solare l'ultimo atto d'amore la donazione degli organi fegato e cornee ridaranno speranza di vita o migliore futuro a più persone voltiamo pagina la giunta comunale di Campobasso ha approvato il progetto per riqualificare l'ex mercato coperto di via Monforte e le aree circostanti i lavori prevedono il restauro e il recupero dell'immobile nel quale troveranno spazio attività e botteghe artigianali con prodotti della gastronomia locale il mercato di via Monforte negli anni è stato punto di riferimento per l'intera città un luogo di ritrovo dove fare la spesa acquistando prodotti locali e di largo consumo tra le finalità del progetto anche quella di rendere fruibile l'area per attività sociali e culturali e adesso parliamo dei misteri una delle tradizioni più importanti e più belle della regione a Campobasso cresce l'attesa per la sfilata che manca da due anni il percorso è invariato rimane quello solito ma sentiamo quali sono le novità ancora nel servizio di Giovanni di Tota le prove generali della processione della Madonna dei Monti con l'infiorata e ancora prima di quella del venerdì santo sembra abbiano dato le risposte che il comune attendeva sull'attesissima sfilata dei misteri in programma tra due domeniche il Corpus Domini a Campobasso rappresenta il clou delle manifestazioni della tradizione cittadina nei locali di via Trento dove assede il museo degli ingegni da qualche settimana vanno avanti i preparativi e le prove per scegliere i personaggi che faranno parte dell'edizione di quest'anno sono soprattutto i bambini quelli da sottoporre a pratiche di resistenza sui misteri e valutare le caratteristiche fisiche per poter al meglio predisporre il singolo ingegno lo stesso Paolo Saverio di Zinno progettista e costruttore di queste straordinarie macchine aveva predisposto calcoli precisi di altezza e peso per bilanciare il mistero in modo che le imbracature potessero funzionare al meglio top secret sul ruolo della donzella ambitissimo mentre confermati i personaggi storici di Abramo del diavolo tentatore sull'ingegno di Sant'Antonio Abate della squadriglia di diavoli che compone il mistero di San Michele percorso invariato rispetto a quello tradizionale a differenza della processione del Tecovorrei che ha saltato tutto il centro storico con il coro che si è agganciato in via Mazzini i misteri usciranno dal museo entreranno nella parte vecchia da porta Sant'Antonio Abate e usciranno dal borgo da via Cannavina per completare giro e benedizione davanti al palazzo di città Scannetta Allert la città lo attende da due anni La palestra dell'istituto comprensivo Petrone di Campobasso sarà intitolata Gaetano Antoniani ex docente della scuola scomparso qualche anno fa l'appuntamento sarà un'occasione per ricordare le doti umane e professionali di Antoniani che per la sua sensibilità e generosità ha lasciato un segno indelebile l'appuntamento è in programma domani alle 11 piccolo passo in avanti per l'acquisizione delle strade di lottizzazione a patrimonio pubblico è stata infatti approvata una mozione in consiglio comunale a Termoli che apre uno spiraglio per il procedimento su quattro strade della città tra queste via Udine da decenni al centro di polemiche sentiamo ancora Andrea Nasillo un piccolo passo in avanti per rendere pubbliche le strade di lottizzazione è stato fatto nell'ultima seduta di consiglio comunale a Termoli questo è certamente il punto che ha destato maggiore attenzione anche al cospetto di un rappresentante del comitato di via Udine una delle strade da anni al centro di polemiche che tuttavia ha ottenuto i primi interventi di urbanizzazione molto però c'è ancora da fare al centro una mozione presentata dalla minoranza mozione rivisitata nella sostanza dopo una conferenza lampo dei capigruppo il consigliere Michele Marone che si è detto favorevole all'acquisizione delle strade di lottizzazione come patrimonio pubblico ha però richiamato l'attenzione sulle leggi mozione quindi modificata e approvata dall'assise all'unanimità con l'impegno della messa a norma preliminare le strade di cui parla il dispositivo oltre a via Udine sono via Lissa via De Mando le via Po sia poi questo un percorso che faccia da apripista anche per le altre strade di lottizzazione i passi normativi vanno seguiti scrupolosamente per poter utilizzare la procedura pensata al fine di acquisire le aree private sono necessari diversi requisiti la strada da acquisire deve essere di pubblico transito da almeno 20 anni tutti i proprietari delle aree sulle quali insiste la strada devono presentare la dichiarazione di consenso se manca anche un solo consenso non si può utilizzare questo procedimento non parliamo solo di una strada parliamo di interi quartieri parliamo di strade che sono ormai nel centro cittadino quindi noi vorremmo che questa diatriba che praticamente ci sta facendo passare i guai diciamo così per il riconoscimento di questa cosa perché noi non vogliamo come sta succedendo adesso che dobbiamo continuare a fare i guardiani della strada quando poi effettivamente non avremo questo compito il consiglio ha approvato anche il rendiconto 2021 e il bilancio di previsione quest'ultimo con relativa variazione approvazioni con 15 voti favorevoli verso un molise a zero emissioni di CO2 è il convegno promosso dalla coalizione civica domani a Termoli con la Gigafactory sostengono gli organizzatori si entra in un ciclo produttivo che rispetta le emissioni in atmosfera ne parleranno tecnici ed esperti nell'evento in programma al COSIB a partire dalle 9.45 e domani nella sala ex Gil a Campobasso a partire dalle 9 è previsto il convegno dal titolo DSA Diagnosi Multidisciplinare e nuove linee guida promosso dalla società nazionale medica cure primarie e dal centro attivamente sulla neuropsicologia dell'età evolutiva il convegno patrocinato dall'ordine dei medici e degli psicologi prevede al termine il rilascio di un attestato di partecipazione studenti a confronto con le istituzioni sui diritti umani all'ISIS Fermi Mattei di Isernia l'iniziativa è stata organizzata a conclusione del progetto la scuola crea conoscenza e testimoni dei diritti universali del mondo ideato con l'obiettivo di favorire lo sviluppo del rispetto della democrazia sentiamo ancora Valeria Migliore I diritti umani garantiti quelli violati e quelli taciuti il ruolo dell'Unione Europea è la tutela della legalità temi su cui gli alunni del Fermi Mattei di Isernia si sono confrontati con le istituzioni nell'incontro che ha concluso il progetto la scuola crea conoscenze e testimoni dei diritti universali nel mondo ideato con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una cultura della legalità questo progetto chiude l'anno scolastico e non potevamo chiudere così al meglio in un contesto scuola dove i diritti umani dove in cui la scuola è presidio di legalità e dove i diritti umani vengono affrontati con molta molta consapevolezza degli studenti nella mia carriera i diritti umani sono stati un faro un faro professionale io auguro anche a loro di aver acquisito queste competenze che sono fondamentali per la vita e per il vivere civile l'obiettivo del progetto coordinato dalla docente Palma Di Miele è stato quello di diffondere la tutela della democrazia e l'europarlamentare Aldo Patriciello ha toccato anche il tema della guerra in Ucraina è un momento di dibattito di confronto certo non è che l'incontro di stamane è risolutivo di un problema così importante però è quello di fare da cassa di risonanza affinché nelle istituzioni questo tema diventa e torni al centro dell'agenda politica e di coloro che devono decidere nelle istituzioni nazionali ed europee per quanto mi riguarda in Parlamento Europeo farò sentire la voce farò un'interrogazione e cercherò di portare avanti nel migliore dei modi e con la mia determinazione l'importanza di questo grande significato e in questo momento con la guerra dell'Ucraina ci rendiamo conto ancora di più dell'importanza presente all'incontro anche la garante dei diritti della persona alla regione Leontina Lanciano ho prodotto un passaporto dei diritti per minori che è stato consegnato a tutti i centri neonatali praticamente è un passaporto dove sono rappresentati 54 diritti che ogni persona ma soprattutto ragazzi adolescenti dovrebbero conoscere che viene consegnato al momento della nascita a tutti i genitori che diventano pertanto i custodi di questi diritti Siamo in chiusura ma vi ricordo prima l'appuntamento di questa sera con ingresso libero temi della puntata condotta da Pasquale Di Bello le regionali le regionali 2023 sanità e formazione politica ospiti in studio l'ex senatore Giuseppe Astore il presidente del comitato Santimoteo Nicola Felice il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani era l'ultima notizia termina qui questa edizione del nostro telegiornale noi ci vediamo alle 15 con il TG Flash cedo la linea ai colleghi della redazione sportiva e vi auguro di trascorrere una splendida giornata arrivederci